Un saluto a tutti i nostri videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo I Cistercensi, un ordine monastico nel Medioevo, di Guido Cariboni, che abbiamo il piacere di avere il nostro gradito ospite, al quale come mia abitudine io non rubo altro tempo perché voglio sentire cosa ci racconta di quest'ordine monastico. Quindi a lei professore, prego. Grazie innanzitutto, grazie più in tutto per l'invito. È un'ottima occasione, io poi sono un attento partecipante del sito Italia Medievale e poi in particolare anche per l'attività che viene trovata appunto da Italia Medievale, che è un compito importantissimo, che è quello di mettere in contatto con un pubblico di interessati e che quindi riesce ad entrare direttamente in contatto con il nostro gruppo. Detto questo, per quanto riguarda il mio volume, io mi occupo di città cesto ormai da tantissimo tempo. Sono occupato di questioni abbastanza locali per quanto riguarda l'Ombandia, poi sono entrati in un gruppo di ricerca tedesco per cui da lì poi ho fatto un gruppo di ricerca riguardo allo strumento del ruolo e allo molto preoccupato quindi qualcosa di funzionale. In più in Cattolica abbiamo anche un centro di ricerca che si chiama CESIV, quindi centro di ricerca sull'insegnamento di malattie europei e ormai nel 2015 facciamo tutto da sé i convegni dedicati spessamente ai cittadini che abbiamo fatto in generale e poi via via, passando agli avanzi, alla macchina di cittadino, abbiamo fatto il sumo di mondo, abbiamo fatto la fiastra e poi continueremo con tutto il programma per i prossimi anni. Detto questo, non pensavo di fare un volume dedicato ai cittadini, che è soltanto invitato, appunto, e lavoravo nel 2020 in pieno Covid e vi avevo potuto per scrivere, mi ha telefonato Carrocci dalla persona di Serpina Lupi che è una della relazione e mi ha proposto questo e devo dire che non ci ho pensato un momento a fare un'opera da un'opera di questo video, perché è un po' una sintesi delle cose su cui io in parte ho lavorato in questi anni. i cittadini sono indicati ormai da qualche decennio, dalla decennia scientifica come il primo ordine dell'articolo 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 dell'articolo. Alcuni sono indicati alla storia dell'articolo 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 dell'articolo. Questo è il concetto di libertà, di memoria, cittacensi, appunto la riqualità e i viaggi, il rapporto con le donne e così via. Per quanto riguarda appunto quest'ordine, le biografie, diciamo così, ci sono di gravi centri di ricerca, particolari del mondo dell'articolo 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 dell'articolo. perché la diesica di proponere una certa storiografia era quella di un'opposizione appunto, con le stesse faccensi tra i regali dell'articolo, sia un ideale, un ideale, un ideale, che piano piano nel corso della storia, del corso di recente, viene naturalmente messo da parte, per cui l'istituzione avanza, un ideale in corso del corso. Questa è quasi una dicotomia, è quasi, possiamo dire, predicare bene un'articolo dell'articolo dell'articolo. e su questa dicotomia per sviluppare l'ultima serie di cittadini, fortunatamente questa posizione era andata via via. Il mio volume tenta appunto di dimostrare con alcuni fatti come invece questo rapporto tra le altre fu un rapporto molto diverso, molto interessante che fu la vera forza dell'Udine perché i XVI si inventarono in qualche modo, naturalmente furono tutti i tentativi che erano fatti perfetti, di cambiare le regole iniziali per quello della precarietà nelle istituzioni della realtà e in tutti gli abiti dell'Udine e naturalmente declinando il discorso dell'Udine perché l'Udine non rimane uguale a se stesso ma naturalmente naturalmente si sviluppa e cambia a seconda delle circostanze che dal punto di vista fotografico viene a ricordare. Una parte molto importante del volume a mio avviso è il racconto delle origini, le origini che sono nati da una serie di testi molto importanti che appunto raccontano i primi, i primi, i primi anni di vita dell'Udine. E' una origine particolarmente contrastata perché l'Udine Cistercense, la battia di Toda a cui poi si svilupperà l'Udine Cistercense, nasce da una ribellione. E' una comunità monastica di una ventina di monaci che si stacca dalla comunità originaria per fondare qualcosa di nuovo e inizia subito ad avere un rapporto contrastato con la comunità d'origine, tanto è vero che deve per molti anni legittimare la nuova, la nuova fondazione. E a mio avviso, meglio nella lettura e questi exordia che sono appunto i testi che raccontano le origini dell'Udine fine data appunto di questi primi anni, c'è un imprinting che poi si svilupperà nel corso di decenni e che formerà dalla vita a tutto l'Udine. Ossia si crea una rete monastica in cui i rapporti tra le comunità sono dei rapporti non verticali, come nelle reti monastiche di XI secolo, ma sono dei rapporti orizzontali. Sono delle gruppi di abbazie, quindi non di preorati, non di prepositure, ma reti monastiche di abbazie più o meno sullo stesso piano e che sono in particolare dal punto di vista economico, dal punto di vista materiale, indipendenti. Questa è un po' la novità che poi si andrà diffondendo un po' per tutto l'Udine. Ecco, rispetto alle origini, anche qui c'è un grande dibattito in tutta la storiografia. Alcuni dicono che il testo fondamentale dei Cistercensi, una sorta di protocostituzione che è appunto la Carta Caritatis, fu oggetto di un'ideazione di un gruppo che quasi, non dico a tavolino però, si misero insieme per creare una struttura dal nulla. Dico con una intuizione geniale. Ecco, la mia interpretazione invece è abbastanza diversa, secondo me invece i Cistercensi all'inizio quasi inconsapevolmente fondarono qualcosa di nuovo. Perché? Perché in un periodo di crisi, o meglio di profondo cambiamento, come i decenni successivi al periodo della riforma della Chiesa di XI secolo, dettero delle risposte originali e innovative a dei problemi che invece erano piuttosto scottanti rispetto all'esperienza monastica, come ad esempio il rapporto tra le comunità e i vescovi e il rapporto tra le comunità tra loro. Bene, quello che per gli altri monaci erano delle difficoltà, invece, come è successo, i Cistercensi le trasformarono in una risorsa, in una risorsa innovativa che ebbe grande successo e questo fu appunto l'origine della loro diffusione. Una diffusione che fu, diciamo così, esplosiva, nel senso che nel corso di cinquant'anni Bernardo de Clairvaux, l'esponente più importante nell'ordine della prima metà del XII secolo, morì nel 1153, bene, nel corso di cinquant'anni furono fondate più di 300 abbazie diffuse in tutta Europa, ma non soltanto in Europa, ma nel vicino Oriente e così via. Detto questo, il libro, il volume, a mio avviso, è piuttosto interessante anche perché mi sono permesso delle licenze che tendenzialmente non utilizzo nel corso dei miei studi scientifici, sia quello di soffermarmi sulle figure, sul narrare delle vicende e delle personalità. In particolare, a mio avviso, particolarmente interessante è il tratteggiare che io ho fatto di questa figura, un amico di Bernardo de Clairvaux, che è appunto il vescovo Malachia di Armagh. È un personaggio estremamente curioso, nel senso che nacque nel nord dell'Irlanda, prima fu un eremita, poi fu scelto quale vescovo della sua diocesi e incontrò i Cistercensi nel 1138 perché si stava recando a Roma per il concilio lateranese. Ebbene, passa da Villanotroua, dove c'era l'abbazia di Clairvaux, e qui, quando arriva l'abbazia, i monaci e Bernardo de Clairvaux sono particolarmente incuriositi. Perché? Perché vedo Malachia come un, non dico un mendicante, ma come un pellegrino che viaggiava in povere vesti con un gruppo di compagni, a piedi senza cavalcatura, senza niente, per cui si stupiscono e ancor più si stupiscono quando si accorgono che Malachia è addirittura un vescovo. Addirittura Malachia chiede di entrare a Clairvaux, il Papa non glielo permette, però il rapporto tra Bernardo e Malachia continua e per Bernardo Malachia diventa il modello del vescovo del vescovo di XII secolo. Tant'è vero che ci sono dei bellissimi passaggi in Malachia scrive appunto la vita, scusate, Bernardo scrive appunto la vita di Malachia, ci sono dei bellissimi passaggi in cui Bernardo contrappone un vescovo classico di XII secolo con Malachia. Per cui Malachia è il vescovo povero, il vescovo che dà tutto per i bisognosi, a differenza del vescovo tradizionale di XII secolo, che è il vescovo che invece costruisce palazzi, che è il vescovo che si arricchisce e così via. C'è una frase bellissima in cui Bernardo dice che per i vescovi suoi contemporanei non c'è confine all'ansia, sono sempre preoccupati, mentre dice Bernardo Malachia non seppe mai cosa fosse la preoccupazione per il domani. Quindi un personaggio povero ma anche un personaggio contento, felice. Ecco, questo è interessante. Altri personaggi che ho cercato di tratteggiare sono ad esempio Gioachino da Fiore o anche il De Garda di Bingen, che naturalmente non è cistercense, che però entrò in contatto epistolare con Bernardo, e Bernardo l'apprezzò tantissimo. Addirittura Eugenio III chiese di valutare l'ortodossia di De Garda di Bingen e il giudizio di Bernardo fu un singhiero. C'è una bellissima lettera che Bernardo scrive a Il De Garda di non sono io che devo giudicare te, ma sei tu che devi suggerirmi cosa devo fare. E questo apre anche uno spiraglio riguardo il rapporto tra Bernardo e le donne. Ci sono delle lettere bellissime, quasi delle lettere d'amore, che Bernardo scrive ad alcune sue corrispondenti. Ci sono anche dei fatti curiosi, ad esempio, anche drammatici all'interno della storia dell'ordine. In una rete monastica così, così, in tutta Europa, naturalmente ci sono dei contrasti molto forti. E' una cosa abbastanza curiosa e questo sempre, questa comunità sempre irlandese, siamo negli anni Quaranta, questa comunità di Monasteranenag, in Irlanda, che viene invitata appunto dal proprio abate padre, ma non accetta la visita, e addirittura i monaci, il testo è bellissimo perché c'è una relazione che viene mandata all'abate di Sito, dove i monaci si chiudono le porte e trasformano la propria abbazia come una fortezza, per cui si riempiono di armi da lancio, si riempiono di acqua e di vivande in modo da resistere all'assedio e addirittura fanno entrare nel pratello interno del chiostro delle mucche per pascolare in modo che possano, insomma, sopravvivere con il latte e con la carne che questi producono per lungo tempo. Quindi qualcosa di drammatico che fanno vedere, ma interessante anche dal punto di vista materiale, che fa vedere appunto tutta una serie di aspetti di vita pratica e come quest'ordine non fu un perfetto eccanismo, ma fu qualcosa che tentò di svilupparsi, di creare dei contatti nel corso di tutta Europa, talvolta ci riuscì, talvolta le cose furono forse più problematiche. Per ultimo, la cosa interessante è che il mio libro si occupa di XII e XIII secolo, ma i cistercensi vivono ancora, ci sono ancora un ordine sia maschile che femmine. Per quanto mi riguarda io non ho avuto soltanto dei rapporti sporadici con i cistercensi contemporanei. Io ho lavorato e tuttora collaboro con un gruppo di ricerca dell'Università di Dresta, che si occupa di storie comparate negli ordini religiosi. Ebbene, questi ricercatori non sono ricercatori cattolici e non sono neppure battezzati, che si sta venendo dalla Germania dell'Este poi. Per cui, perché si interessano dei cistercensi, o meglio, degli ordini religiosi in particolare, cistercensi, certosini, premostratensi e poi ordini dimenticati? Perché? Perché sono un fenomeno istituzionale di eccezionale importanza, non per la storia della Chiesa, ma per la storia del medioevo nel suo complesso. Perché furono delle istituzioni particolarmente sperimentali, particolarmente innovative, che suggerirono anche in altri ambiti della vita amministrativa delle soluzioni che sembravano quasi impossibili da realizzare. Detto questo, una cosa curiosa, mi è capitato qualche anno fa di leggere un'intervista all'attuale abate generale dell'ordine cistercensi, che è Mauro Lepoli, che è stato recentemente rieletto. La cosa interessante è perché, tra l'altro, l'esistenza di abate generale è qualcosa che nel medioevo era impossibile, nel senso che l'organo fondamentale di governo dell'ordine era il capitolo generale. Abate generale, all'Epoli stesso, cioè qualcosa che i cistercensi medievali non conoscevano. Detto questo, nell'intervista che ho letto, appunto, il giornalista chiede all'Epoli qual era la caratteristica principale, il valore connotativo del suo ordine nel XXI secolo. Ecco, a questo punto mi sono fermato, non ho letto avanti, ho pensato tra me quale fosse l'ideale fondamentale dell'ordine nel XII secolo, e quindi nell'epoca che ho studiato io, e mi sono dato questa risposta. L'ordine ideale fondamentale era, al di là della kaita, si era la libertà, ossia l'unanimitas, ossia la possibilità per ogni abate di decidere di appartenere all'ordine. Non ero obbligato di appartenere a questa retnaastica. Bene, poi, data questa risposta mentale, sono andato avanti nella lettura della risposta di Lepoli nel XXI secolo e anche lui, mi sono veramente quasi commosso, detto il valore fondamentale è la libertà, se è la libertà. E questo è particolarmente interessante, perché di là gli cambiamenti istituzionali eccezionali che ha avuto l'ordine quasi riconoscibile rispetto al modello, al modello medievale, viene sicuramente un nocciolo che continua e che si è mantenuto nel corso dei secoli. Ecco, semplicemente questo. È interessante questo aspetto, davvero interessante. Io, peraltro, ho una passione per questo ordine, per la sua storia e per la sua eredità, perché le abbazie cistercensi sono ancora oggi lo specchio di quello che furono nel Medioevo, molto rimaneggiate, riviste, però, diciamo, nelle loro strutture sono le stesse e mi hanno sempre incuriosito alcune cose. Com'è stato possibile che un ordine che avesse raggiunto queste dimensioni e questo potere, perché parliamo di centinaia e centinaia di abbazie sparse in tutta Europa, a un certo punto potesse decadere come è decaduto. Il discorso della commenda è una parte di questo aspetto, ma è come se non si fossero accorti che la società intorno a loro stava cambiando e l'arrivo degli ordini mendicanti li abbia colti di sorpresa e un po', come dire, un po' spiazzati. Loro che si erano sempre andati a insediare fuori dalle città, quando le città ovviamente non erano importanti come nel XIV secolo. Ecco, queste sono le cose sulle quali io continuo a interrogarmi e continuo a studiare perché è indiscutibile che da un certo momento in poi i francescani e i domenicani abbiano soppiantato da tutti i punti di vista l'ordine cistercense. Lei cosa ne pensa di questa idea? Sì, nel volume mio di XII-XIII secolo. Ecco, nel XIII secolo, nel 200, è un periodo abbastanza interessante perché le due esperienze riuscirono a convenere. Certamente, per portare avanti un'idea innovativa di sperimentazione per molto tempo è quasi impossibile, nel senso che comunque la storia, le circostanze storiche sono in continuo cambiamento. Certamente, qualcosa di particolarmente impressionante per i cistercensi fu il loro rapporto col papato. Ecco, nel XII secolo, e anche il papato che continua a cambiare, nel XII secolo i cistercensi azzeccarono tutta una serie di moste. Ad esempio, parteggiarono per, in particolare, Bernardo, per Innocenzo II, nello scisma con Anacletto II, e poi furono i grandi, almeno centro dell'ordine, i grandi fautori di Alessandro III. Quindi delle mosse politiche che permisero a loro di avere un rapporto privilegiato col papato e di ottenere tutta una serie di privilegi. Ecco, qualcosa sicuramente cambiò all'inizio del XIII secolo, in particolare con l'innocenzo III, che i cistercensi non amarono per niente, diciamo così, e poi naturalmente che il papato cambiò, diventò più centralizzatore, ebbe bisogno di strumenti più efficaci, più legati a se stessi, e questi strumenti furono appunto gli ordini mendicanti che diedero, in termini di pastorale, di predicazione, anche di propaganda, a un aiuto al papato che i cistercensi, proprio in quanto ordine monastico, che si era creato in un certo senso un mondo chiuso, non potevano dare. Se proprio le esigenze che la Chiesa aveva nel corso del XIII secolo, che erano diverse rispetto a una fondazione di un ordine che si era sviluppato nel corso del XII secolo. Detto questo, però, non possiamo dire che l'ordine morì nel XIII secolo, ma che si sviluppò, poi con la commenda, fino al Settecento, fino alle soppressioni. Noi abbiamo comunque una serie di istituzioni che funzionavano. Poi ci furono le grandi congregazioni, ad esempio noi siamo in Università Cattolica, la stessa abbazia di Sant'Ambrogio, a fine Quattrocento, divenne un'abbazia cistercense, sede della congregazione di San Bernardo in Italia, che era male, insomma, la storia cambiò. Certamente, forse, almeno per il mio punto di vista, che è quello di uno storico istituzionale, meno interessante dal punto di vista innovativo, sperimentale. Ecco, XII e XIII secolo sono sicuramente il periodo, in questo senso, più fiorente, perché è più originale. Ecco, diciamo così. Sì, 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 condivido questa lettura, perché è effettivamente andata così. Io adesso starei qui ora a parlare con lei di quest'ordine monastico, soprattutto del periodo d'oro, perché l'innovazione non fu soltanto di tipo istituzionale, ma fu proprio un'innovazione a tutto tondo, persino a partire dal modo di costruire le abbazie, tanto per dirne una, che diventarono un modello. Un'innovazione economica, per esempio. Certo, ma io a volte ridendo dico che sono stati il primo multilevel marketing della nostra storia, perché avevano veramente una struttura unica nel loro genere, che permetteva a un monaco di essere a casa sua in qualunque posto dovesse andare, ritrovando la stessa biblioteca di base, ritrovando gli stessi spazi, ritrovando le stesse liturgie, e quindi era veramente qualcosa di davvero importante e particolare. Professor Cariboni, io la ringrazio e ne approfitto per ricordare il titolo del suo volume, così chi vuole comprenderlo meglio, quest'ordine, può andarselo ad acquistare. Il titolo è I Cestercensi, un ordine monastico nel Medioevo, appena pubblicato da Carocci, sono 244 pagine per 20 euro, quindi è una cifra assolutamente abbordabile, e io consiglio di correre in libreria e comprarlo. A questo punto la ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito, consiglio ai nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito www.italiamedievale.org e vi do appuntamento alla prossima videopresentazione. Grazie ancora. Grazie a lei. Buon lavoro. Grazie a lei. Grazie a tutti.